Con il piatto Profumi di Montagna, ravioli con funghi porcini accompagnata da un vino di Pescia, l'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme si è giudicato il concorso regionale primi di Toscana ed ha vinto la prova finale che si è svolta all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Secondo, l'Istituto Foresi di Portoferraio con la sburrita elbana. Terzo, con la ribollita, si è classificato invece l'Istituto Artusi di Chianciano. La gara, promossa dalla regione toscana a suon di pappardelle, zuppe e tortelli, ha visto sfidarsi tutti gli istituti alberghieri toscani e i giovani cuochi si sono cimentati nella preparazione di primi piatti dal sapore tutto toscano. Praticamente è stata coinvolta tutta la Toscana, tutti i vari territori, oggi finalmente siamo arrivati alla finale. È stata veramente una bella occasione, credo, per tutti, per i ragazzi, per fare una sana competizione e quindi impegnarsi al meglio e anche uscire dalle aule, uscire dalle proprie scuole. Ma anche per chi magari non frequenta le scuole tutti i giorni, cioè entrare, penso ai giurati, penso a tutti noi che oggi siamo qui a vedere di cosa sono capaci i nostri ragazzi, è l'occasione proprio per capire come si lavora a scuola, altrimenti della scuola emergono solo magari le cose negative, invece ci sono anche tante cose belle e si lavora con professionalità per formare professionalità. Ai primi tre istituti classificati, oltre al Pegaso della regione toscana, sono andati altrettanti laboratori professionali, sia ai ragazzi che ai docenti messi in palio dalla scuola di alta professionalità Tessieri di Ponzacco. A tutti gli istituti che hanno preso parte alla sfida finale, invece, è andato un attestato di partecipazione e delle pubblicazioni in materia enogastronomica. È stato un momento di scambio e confronto con le altre scuole, con la regione toscana e di valorizzazione di quello che offre il territorio, le nostre materie prime e quindi filiera corta, prodotti a chilometro zero e un momento in cui gli studenti si confrontano con i loro colleghi del resto della Toscana e mettono a frutto quella che è la loro esperienza di formazione che è stata portata in fondo nella scuola. I piatti che hanno preparato mettono a frutto le esperienze sia che hanno imparato dentro la scuola, ma anche in questo scambio formativo molto importante che le scuole ormai hanno con il mondo del lavoro. Un concorso che ha voluto sottolineare la sinergia tra scuola e lavoro, con uno sguardo al futuro dei giovani allievi, degli istituti albergheri e della ristorazione toscana. La scuola è il luogo del sapere, della conoscenza, storia, italiano, matematica e geografia, solo che ci siamo dimenticati che la storia della formazione e dell'educazione e quindi della scuola italiana fino a qualche decennio fa era anche saper fare, quindi competenza. Noi non abbiamo fatto venire meno in questi cinque anni la scuola del sapere e della conoscenza, abbiamo però aggiornato la scuola con percorsi come questo, nei tecnici, nei professionali, ma anche nei licei, di competenze, perché è quello che poi la realtà di tutti i giorni, del mondo del lavoro, richiede. La giuria, formata da Claudio Capitani, Cristina De Bernardis, Simona Enrico, Marco Poletti e Franco Polidori, ha emesso il verdetto dopo che i ragazzi e le ragazze guidati dai loro professori si sono combattuti all'ultimo piatto. Il primo piatto che ha conquistato i palati dei giudici è stato Profumi di Montagna, preparato dal team composto da Jonathan Fedeli, Giulio Ceri e Leonardo Candri, allievi dell'alberghiero Martini di Montecatini Terme. Un connubio di sapori prettamente locali che vanno dal fagiolo di Sorana all'asparago selvatico. Poi nel piatto c'è il pecorino della montagna pistoiese Presidio Slow Food, i funghi della montagna pistoiese, il lampone della betone, la patata rossa a pasta gialla, dell'agriturismo la piastra e per concludere c'è una pasta fresca all'ortica perché la domenica veniva inserita appunto proprio di questi periodi di primavera all'interno delle paste fresche spianate la domenica. Fin da bambino avendo la casa in montagna sono sempre stata a contatto con questi alimenti e è stata un'esperienza per me magnifica, ci ha fatto crescere molto, abbiamo un pensiero magari di creare una squadra anche per il prossimo anno o per eventi successivi e davvero è una grande emozione ricevere il Pegaso e per noi è un immenso piacere. Mi sento più completo perché ci sono 13 istituti alberghieri differenti a questa corsa, questa gara. Ogni istituto alberghiero aveva in particolare dei prodotti, dei piatti, dei movimenti in cucina che ci hanno fatto crescere, ogni persona ci ha dato qualcosa. I ragazzi sono stati molto bravi tutti, faccio complimenti davvero a tutti, la giuria è stata molto tecnica, molto brava e davvero ogni ragazzo ci ha dato molto. Primi di Toscana è stato un campionato che oltre a valorizzare le scuole alberghiere toscane nell'anno internazionale del cibo italiano nel mondo promosso dall'ONU è riuscito a rendere protagonisti tutti i territori della Toscana e i loro prodotti tipici e unici, piatti semplici e talvolta poveri, altre volte più elaborati, comunque in grado di unire tradizione ed innovazione. È noto che ormai gli alberghieri rappresentano la nostra eccellenza, che valorizzano il nostro territorio, i nostri prodotti e la nostra economia. È anche noto che i ragazzi che frequentano gli alberghieri devono trovare non soltanto la soddisfazione del lavoro, ma anche la possibilità di mettersi a confronto, il gioco, dare il meglio di sé. Queste manifestazioni in pratica raccolgono queste esigenze e noi dobbiamo ringraziare anche oggi particolarmente la regione Toscano perché ha avuto l'idea di condurre questa bella iniziativa e abbiamo assistito anche a una bellissima giornata della quale ci rallegriamo con i docenti e i nostri ragazzi. È stata veramente una bellissima esperienza, un'esperienza di lavoro, di entusiasmo e anche di creatività dei nostri insegnanti, dei nostri ragazzi che hanno dimostrato di meritare benissimo quello che poi sarà il progetto di vita, cioè diventare dei grandi chef e degli esempi per gli altri. Ma adesso la regione toscana sta pensando di allargare questo tipo di concorso ad altri istituti. Siamo partiti dall'enogastronomia perché naturalmente questa è anche una filiera strategica della nostra regione, abbiamo prodotti di eccellenza, ma delle sane competizioni su questo modello abbiamo intenzione di idearle, di metterle in campo anche su altre filiere produttive, sempre importanti per la nostra regione, per valorizzare anche tutta la filiera tecnico-professionale che ha poi il suo vertice negli istituti tecnici superiori, che è così importante per formare quelle professionalità che le nostre imprese richiedono e che non sempre trovano. Al termine di questo concorso che ha visto partecipare gli istituti alberghieri di tutta la Toscana è stato stampato il volume Primi di Toscana, un ricettario dei piatti proposti durante il concorso, non solo quindi le finaliste, per essere poi presentato al Salone del Libro di Torino. Per essere poi presentato al Salone del Libro di Toscana, un ricettario dei piatti, che è un'ottima sinistra forzimenti per essere poi presentato al Salone del Libro di Toscana, un'ottima